se ma te non lo vedi la mazza che si flippa con la mano no io vedo a che la mazza e la catena va dove vuole ma ci sono le mazza e l'inventario perchè non hai sbloccato il beh ma dite la pallacchierata? si quella quella che c'è in mezzo alle gambe delle volte mamma mia spacco a tutti con la palla chiudata in faccia ma prova a potenziarlo io non lo scudo eh no io non posso potenziarli perchè devi distruggere armi se vuoi potenziarlo allora vota mappa quindi adesso cosa mi da? no non eroi cazzo mi dimentico sempre dov'è ordini ok ok manca uno guadagno 300 ne ho 3 10 dovrei poter sbloccare almeno una cassa dovresti non dimmi così brutto e invece non sblocchi nulla coglione è uno scudo per i vichinghi quello infatti diceva perchè non me lo fa per i vichinghi non vichinghi agile e abile nel contrattacco è difficile ma quasi tutti i giapponesi sono difficili tra quello base lì c'è il nobushi e se lo fa vacca nel bastone ma io prendo sempre questo ma i samurai sono per i finocchi ma si vuoi mettere contro il mio potente cavaliere che è uscito adesso dalla tavola a otto o vuoi mettere contro i vichinghi e ce l'ha fatta ti hai solo ti avrai colpi di spada e da otto è diventata guardabrada eh mi dispiace blauler a capire come ha fatto le catane fanno cagare sono meglio le spade sono meglio le asce usa l'ambiente circostanza proiette nemici contro i mui per farli barcollare non vi preoccupate che l'abbiamo più o meno capito ricompense ogni venti livelli il tuo è voi e non ho capito cosa succede uh che bello notte in nevata però non sembra tanto notte cazzo adesso ando solo qua che cuscolo venga il vichinghi con la spada è è aggressivo non ho capito bene dove come doggiai gli attacchi se lo ti hai da qualche parte eh giustiziata siete di là quindi lui adesso deve andare qui allora io faccio il giro mega lungo ah però potrebbe quale anche lui eh c'è dietro ha colpito il muro non sopprì saccagnamolo gank saccagnate ma no però notavo che non ti toglie vita però ti destabilizza se ti colpisco io ciò davanti è il vichingo con lo scuro che non riesco mai a fare niente si è aggressivo quello lì ma ma però ogni colpo che Paolo tiene a reazione eh sì no io pensavo che lo tenevo dopo un colpo potevo continuare a tenervo eh no anche io pensavo così invece no ecco cosa cazzo sbagliavo devi tirare le vettoni volta beh più reattivo comunque c'è più divertente for l'ho fatto cazzo se l'ho fatto arrivo no no l'ho fatto l'esecuzione ma dove sei? qua ma che è sfigato non hai fatto l'esecuzione sei proprio un ciarlatano mi arriva il prompt dell'esecuzione ma clicco non diriva il prompt prompt secondo me perchè spammi come un matolo ti becca i comandi che hai schiacciato prima esatto spammi come un maiale ammettilo cazzo ho schiacciato tipo io adesso l'ho attaccata e di conseguenza ma sempre questo cazzo di mavash interi a me adesso non è arrivato il prompt adesso non mi arriva delle volte non mi arriva neanche per fare l'esecuzione non so se devi forse prima andare da attacco potenza d'altro ma vasi che non lo so ordini completati ok adesso posso sbloccarmi la classe così guadagno hobby per la classe teoricamente quindi se io adesso vado in eroi vado qui e dico recluta ah che bello ho sbloccato l'elmo che è uguale a quello che uso eh però diceva treksi prima che anche se sono uguali hanno caratteristiche diverse si se guardi solitamente le statistiche sono diverse ah aumenta il recupero della stanchezza e diminuisce la durata della vendetta eh è meglio questo si a volte spesso e volentieri hanno una cosa migliore e una negativa invece si si è normale che c'è c'è anche la musica per ogni classe che c'è c'è anche la musica per ogni classe cazzo non mi ha fatto allora 2 e poi abbiamo tutti i obiettivi pipì però quindi facciamo questo e poi fuoriamo pipì mhm io ho tutti ordini di dominio quindi anche con lì a eh la maggior parte mi sa anch'io no con lì a no perché ho preso io gli altri per sbaglio ma è caino perché c'è anche il fattore da lì a lì a non mi sembra affatto male no anzi cioè è già competitiva e penso che sia a livello basso c'è più forte di voi praticamente eh c'è spesso volentieri si eh il vichingo con l'oscuro mi ammazza ti avviso popa di tutto io samurai con iniziale mamma evo capo ho fatto la finta sì ma ti mi cosa volta amocco fatto cd almeno un tizio ma ha fatto attacco in corso alberto vichingo si, c'è l'attacco in corso sono morto tantissimo come si fa l'attacco in corso corretta alvo per esecuzione foto ma senza lo cavo cacopo ma corre basta però non me lo fa con saltino ecco ciò io il vichingo davanti le palle il vichingo non riesco a rompergli la guardia se è un attacco che sento urlare d'acqua quel cacopo portato io ma come funziona lo scudo che non ho ben capito in che senso a siccome dove punti per blocco parli con lo scudo o c'è tipo una sorta di perry penso sia una sorta di perry perchè io adesso non lo lascio più lì tipo quando arriva do la botta verso la direzione proviamo dominio si dominio ma com'è che dobbiamo fare per un po' torno al menu principale e scio solo e scio con il gruppo ok allora aspetta eh sto selezionando una persona sembianze ah velocità di rianimazione questo è interessante equipaggio si per fare il film no? mhm e anche di un bel po' mi ritrovano sono solo qui ah quando sali di livello sblocchi il sesso è differente un sesso 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 un sesso cosa lì anche un pezzo è un pezzo di rivelo ehm ci sono anche i gesti da comprare si ma ho visto che ce n'è solo uno in più si non va bene che sia tutto di l'essio oppure è supporto dopo lancio probabilmente eh mi sa che saranno acquisti in app perchè devono puntare su cioè sono cose che possono servire io prendo l'occhi e devo scegliere puoi scegliere chiunque mi pare di personaggio ci sei? mhm sto guardando che che panzo che sei abbiamo una vichinga? sì penso di sì eh quello base però femminile è un samurai invece di quelli covazzati chiamali chiamali come si deve finocchi cazzo hanno raiden hanno due assassini no blaulet anche io non sto giocando un bevsep che è un è un cavalier invece avanguardia noi abbiamo due attaccanti di quale ah no no tu sei quello pesante due pesanti e due veloci siamo non ci abbiamo avanguardia noi ok giriamo insieme io e te non faccio inculare sangue poi quando si conoscono le mappe si può dire vai qua vai là eh appunti ci sono abc si quindi ah è vero domini notte nevosa eh no blaulet non puoi abusare del tuo potere eh poi ti chiccano che già hanno tolto un sacco di potere i ninja quindi stai calmino eh lo mi manda non so però no un bel rossino vambino chanica non so cariamento veloce cazzo che palle mi guardo mosse qui mosse della modalità guabbia colpo controvento e viene fighissimo della maggiata dove sei tu dietro di te andiamo su a hai perso la zona c hai scappato via eccolo in due dove ok doppio ci sono disfavate che potente ocio che li posso muovere sale però ciò ne prendiamo due e manteniamo eeeh potremmo eeeh possibili passiamo da dietro poi abbiamo prendere i cittadini ecco ora hai cambiato la zona c merda sono morto vado su cazzo mi hanno ucciso studi ocio che se lo sono su a ok ci sei già sono in due per ora non si possono seguire tassi quanto mai dietro ci sono io dai anni mai ti metto un segnalino volendo non lo vedo lo vedo stai seguendo ha fatto più veloci aumentata la velocità di racing ah blaulet questo non lo so devi chiedere a trex ho perso la zona c ho ucciso, avevo cazzo scusa tanto so che ha i ninja non c'è un po' i poteri almeno quello si in pvp fa danno il fuoco amico non puoi più rinominare le persone io ho una bomba gas sbloccabile con il dpad non so se ti segna anche te con te ah se te lo merito ah non posso correre praticamente ah figo anche gli alleati li rende ciechi anche gli alleati ah il tuo si addio 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 l'uolo è capitato che puntenta adesso piangiamo per lui vai piangiamo hai perso la zona c eh però se sti coglioni cazzo siamo ma non è stata cambiare di indirizzo subito ma si può scendere da qua no no andiamo su b che possiamo anche facce dei punti da lì eh wow com'è come sei ah fosse l'acqua no si può saltare solo quando c'è un pg sotto io sono sceso eh io sono su sua zona b ah si arrivo ogni tanto mi guardo in giro per cercare la stamina eh non è stamina sta stamina dove sei no basta sto stronzo lo stavo tirando su e ha levato il corpo hai perso la zona c abbiamo perso c di nuovo no no 3 contro 1 ahia ahia non vedo dove sono sono in quanti erano in 3 quindi aspetto aspetto faccio un giro lungo no no ma non è capitato ah ok minchia sei in serie sei chi tu da che sei in serie sanguinaria inarrestabile mamma mia che potente sei pro arrivo potente 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 non abbiamo neanche una zona eh no ho preso il b adesso non ci sei un uovo o un'altra cazzo ho preso un'altra cazzo ma hai catturato la zona ok adesso chi muore rimane morto uno appena morto subito quindi adesso rimane appena appena lo loco uno gli spavola la feccia mamma mia è andata la corrente st sta pezza di merda hai perso la zona ha perso la zona ciao bravo no non hanno dirancato nessuno c 3 ha narrancato hexist il mio paladino oh basta 1 4 2 3 5 5 6 Non ne stavo dicendo, ma ne faccio pure lo stream buffo a Roma, no, forse. Devo portare solo fisicamente il PC, mi rombo un po' le palle, sinceramente. E' un po' scomodo anche perché è il fisso, no? Eh sì. Ti stiamo massacrando. Ah, si fanno punti per il 2.000 anche così. C'è ancora solo uno vivo. Faccio l'attacco pesante così faccio tutti. Che figata. Che spettacolo. Mi che ho obiettivo i seti abbattimenti in taverici, non si capi, basta. Sì. Sì.